Eccomi qui ragazzi, è passato un attimo di tempo e mi sembra doveroso fare un video di replica, nel senso quando ho acquistato quest'autoradio, che faccio un attimo un riassunto, questa è la Hyundai Tucson modello 2016 l'autoradio non è di serie ma è comprata dal Roadnav e ovviamente ero entusiasta, molto contento vi ho spiegato tutte le varie funzioni che quindi non vi faccio adesso il summit nuovamente delle funzioni che ha perché ho già fatto degli altri video quello che mi sento doveroso di dirvi è che only the brave, come si può dire nel senso che in seguito a questa segnalazione iniziale del mio video ho tra virgolette invogliato molta gente ad acquistarla bene, ci siamo accorti che quest'autoradio sia stabile su tutte le versioni tranne che sull'X Possible cosa vuol dire? in soldoni i particolari non ve li so dire ma c'è una grossa incompatibilità col sistema in caso di X Possible, al di là che serve adattatore per montarla sia per la ricezione dello spinotto MFM che per la retrocamera che su comfort classico ovviamente non essendoci retrocamera si installa in un secondo momento e quindi non ci sarà la connessione originale ma i classici jack RC, ok? per intenderci invece su quella X Possible essendoci già la retrocamera serve un adattatore che io ho comprato dalla Phonocar stessa cosa MFM, c'è la MFM nella comfort e nella classic c'è l'attacco classico della spina con lo spillo invece nella X Possible che è questo modello, ahimè serve un adattatore, sempre Phonocar servirebbe un adattatore anche per questo attacco, io non l'ho mai acquistato e infatti l'USB la utilizzo da altra uscita perché voglio farvi questo video? scusate che mi dilungherò ma questo è un video di replica perché non solo vanno fatte le belle presentazioni, le belle pubblicità ma vanno a dire anche le cose come stanno perché più di 5-6 persone nel gruppo, che ho potuto constatare nel gruppo Hyundai Tucson Italia hanno avuto problematiche con questa radio installata sulla X Possible nel senso che se inizialmente andava bene anche dopo pochi minuti, pochi minuti che può andare a finire fino a mesi all'accensione della radio o della macchina o si bloccava la schermata implicando l'obbligatorietà di aprire questo sportellino scusate ho spinto un tasto e spingere qui che c'è il tasto reset come potete vedere o altrimenti iniziavo a fare delle righe bianche creando l'instabilità e successivo loop di accensione nel senso che era inutilizzabile la radio addirittura il venditore, ripeto, che è una marca Rodnav quindi è proprio un produttore dove l'ho acquistata e dove l'abbiamo acquistata, non un rivenditore sconsiglia l'acquisto a chi ha questa autovettura cioè la X Possible quello che mi sento da dirvi a questo punto è di valutare il discorso se avete un X Possible perché rischiate di spendere comunque meno soldini rispetto a una Pioneer e quant'altro sì è allettante perché vi trovate YouTube vi trovate Chrome, Google Map e quindi le mappe sempre aggiornate i comandi al volante non ne perdete neanche uno vi sono sincero non ne perdete neanche uno di comandi al volante perché da questa funzione si possono riassegnare ok? qui potete riassegnare tutti i comandi al volante che sono smemorizzati quando acquistate la radio li dovete semplicemente memorizzare però rischiate di trovarvi un prodotto è un prodotto che utilizzerete per pochissimo tempo perché vi dico all the brave? perché attualmente sono l'unico a avercela installata funzionante che ha X Possible dirvi il perché non ve lo so dire io ho montaggi particolari non ne ho fatte mi sto anche un attimo grattando scusate la sincerità perché attualmente la situazione è questa è una radio che è bellissima e la consiglierei a tutti se fosse stabile perché con circa 460 euro considerando tasse doganali considerando adattatori escluso il montaggio perché quello ovviamente varia da persona a persona quanto richiede per il montaggio vi trovate un autoradio android come avere un cellulare quindi vedete avete il menu classico di android con le varie icone personalizzabili altrimenti avete il menu rapido ok di positivo è che l'aggancio dei satelliti è istantaneo di positivo è che il microfono io ad esempio utilizzo quello che c'è qua di positivo è che con l'X Possible e quest'autoradio riacquisisce i comandi vocali che l'X Possible come tutti ben sapete se avete questa radio non li ha però volevo fare una precisazione proprio per questo perché non voglio fare pubblicità ingannevoli non voglio essere una persona che parla solo quando le cose sono belle se avete dubbi o che altro io sono qua disponibile ciao ragazzi